Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane oggi parleremo del metodo Nix e lo faremo insieme alla dottoressa Monica Pagani che è in collegamento da Ferrara buonasera dottoressa ben trovata buonasera a voi e grazie ancora per essere sempre vostro ospite è un grande piacere per noi dottoressa è veramente un piacere per noi rivederla quindi per riepilogare per chi non ci avesse seguito nella puntata precedente qual è il suo background e di che cosa si occupa? Allora mi racconto velocemente sono una biologa nutrizionista e preparatore atletico mi occupo di prevenzione e benessere attraverso la nutrizione l'epigenetica lo sport e la neuroplasticità il mio brand Nix è stato creato proprio per riflettere i campi di cui mi occupo. Nix è l'acronimo di nutrizione, intestino, cervello e sport. Il mio obiettivo è aiutare a raggiungere e mantenere un equilibrio cellulare e vitale per vivere una vita in salute e appagante. Come racconto nel mio libro nel vasto panorama della salute e del benessere c'è in atto una rivoluzione. È un risveglio, un cambio di prospettiva che ci invita a considerare il nostro corpo e la nostra mente in modo integrato per trasformare il modo in cui concepiamo la nostra salute. Parlo di salute integrata come un'evoluzione necessaria. Mi piace considerare la salute a 360 gradi cioè in modo olistico. In toto numerosi studi scientifici evidenziano la connessione tra mente e corpo sottolineando come fattori emotivi possano influenzare la salute fisica e viceversa. Un po' come se ci fosse un dialogo continuo tra mente e corpo. Ma partiamo dall'inizio parlando di nutrizione. Eh sì dottoressa, quindi partendo dall'inizio e volendo parlare di nutrizione, come può un'alimentazione corretta influenzare la nostra salute? Potremmo parlare di potere della nutrizione. La nutrizione è fondamentale per il nostro benessere. Un'alimentazione equilibrata può migliorare la salute cellulare, ridurre l'infiammazione e prevenire malattie. Lavoro quotidianamente con pazienti che soffrono di patologie autoimmuni, cardiovascolari, cancro e molto altro. Cambiando l'alimentazione e introducendo nutrienti antinfiammatori riusciamo a migliorare significativamente la qualità di vita. Comprendere e gestire l'infiammazione può quindi aiutare a prevenire queste malattie e migliorare la salute in generale. Ecco dottoressa, lei ci ha appena parlato di infiammazione. Che cos'è l'infiammazione e perché è così importante conoscerla? L'infiammazione cellulare è una risposta naturale del corpo a stress, lesioni o infezioni. Quando le cellule sono infiammate rilasciano delle molecole chimiche che sono dei segnali, funzionano come segnali per l'organismo. L'infiammazione può causare dolore, gonfiore e se dovesse persistere a lungo può provocare danni ai tessuti. E' importante pertanto conoscerla perché l'infiammazione cronica può contribuire allo sviluppo di vere e proprie patologie, prima in fase acuta e poi in fase cronica. Dottoressa, negli ultimi tempi si parla sempre di più, sempre più spesso di epigenetica. Ci puoi spiegare che cos'è e questa come può influenzare la nostra salute? E' sempre l'epigenetica, può essere correlata alla prevenzione? L'epigenetica studia come i nostri comportamenti e l'ambiente in cui viviamo possono modulare l'espressione dei nostri geni. Possiamo fare prevenzione anche attraverso la scelta di quali nutrienti introdurre nel nostro organismo. Alcuni alimenti hanno proprietà antinfiammatorie e naturali, per esempio i frutti di bosco, grazie al loro potere antiossidante possono ridurre lo stress ossidativo. Il salmone è un pesce grasso ed è ricco di omega 3, acidi grassi buoni che riducono l'infiammazione. Anche le spezie come la curcuma e lo zenzero sono potenti antinfiammatori. Integrare questi alimenti nella nostra alimentazione quotidiana può aiutare a mantenere bassi i livelli di infiammazione. Fare attività fisica regolare può ridurre lo stress e si possono attivare, cioè accendere i geni protettivi e disattivare, cioè spegnere quelli associati alle patologie. Quindi un cambiamento nello stile di vita può avere un impatto enorme sulla salute a lungo termine. E per quanto riguarda, dottoressa, l'attività fisica qual è l'importanza, qual è l'impatto che questa ha sulla nostra salute? L'attività fisica non è solo essenziale per il corpo ma anche per la mente. Aiuta a ridurre lo stress, migliora l'umore e aumenta l'energia. Il ruolo dello sport diventa cruciale. L'attività fisica regolare e costante aiuta a ridurre l'infiammazione in diversi modi. Prima di tutto migliora la circolazione sanguigna, il che aiuta a rimuovere i prodotti di scarto dalle cellule, le scorie metaboliche. Inoltre l'esercizio fisico riduce i livelli di citocchie amatorie e migliora la funzione immunitaria, quindi aumenta il nostro sistema immunitario. Attività come il nuoto, il trekking, la bici e lo yoga sono particolarmente efficaci. Attraverso un programma di allenamento personalizzato si riesce a perdere peso, aumentare l'autostima e migliorare la salute mentale e lo stato di benessere generale intraprendendo così un lungo viaggio verso la prevenzione. Dottoressa, ti può per favore spiegare che cos'è la neuroplasticità e in che modo la meditazione può aiutarci in un percorso proprio di prevenzione? La neuroplasticità è la capacità del cervello di riorganizzarsi formando nuove connessioni neuronali in risposta a delle esperienze vissute realmente o anche solo mentalmente. La meditazione e le visualizzazioni possono migliorare la funzionalità intestinale e l'equilibrio ormonale riducendo lo stress e aumentando il benessere. La meditazione e le visualizzazioni possono essere utili poiché una corretta respirazione e immaginare degli scenari rilassanti può indurre il corpo a rispondere come se fosse realmente rilassato. Lo stress cronico può alterare la barriera intestinale portando a infiammazione e anche per esempio a dei problemi digestivi e non solo naturalmente. La meditazione aiuta a ridurre i livelli di cortisolo che è il cortisone naturale prodotto in modo naturale dall'organismo e altre molecole chimiche legate allo stress migliorando così la salute intestinale e riducendo l'infiammazione. Un semplice esercizio di meditazione consiste nel chiudere gli occhi, respirare profondamente e visualizzare un luogo tranquillo. Questo può avere un effetto calmante praticamente immediato. beh dottoressa io questo metodo l'ho provato e l'ho provato proprio mentre facevo la TAC dovendo stare lì ferma ho provato a fare questo e sono riuscita a rimanere ferma e rilassata per tutto il tempo necessario. Per concludere quindi dottoressa ci può riassumere i punti chiave di cui abbiamo discusso oggi e prima lei ci aveva accennato al suo libro. Ci può dire come può aiutare la lettura di questo libro i nostri ascoltatori? Abbiamo parlato dell'importanza della nutrizione, dell'epigenetica, dell'attività fisica e della neuroplasticità per il benessere. Il mio libro Health Experience offre approfondimenti su tutti questi argomenti e fornisce strumenti pratici per migliorare la salute e il benessere. Leggendo il libro si può scoprire come applicare questi concetti nella vita quotidiana sia davvero semplice. Per concludere dottoressa ci può per favore dare tre consigli da seguire quotidianamente per riuscire a prevenire l'infiammazione cellulare? Beh primo adottare un'alimentazione ricca di alimenti antinfiammatori come frutta, verdura, pesce grasso, spezie come abbiamo accennato prima, curcuma e zenzero. Secondo praticare attività fisica in modo regolare come anche solo camminare o andare in bici o fare una qualunque altra attività cardio per almeno 20-30 minuti al giorno. Terzo incorporare delle pratiche di gestione dello stress nella propria routine quotidiana come la meditazione, la respirazione profonda o le visualizzazioni. Questi semplici cambiamenti possono avere un impatto davvero significativo sulla riduzione dell'infiammazione e sul miglioramento della salute generale. Beh dottoressa grazie per queste preziosi informazioni e per questi consigli che lei ci ha dato. Dove possiamo trovare il suo libro e come possiamo fare per seguirla? Beh innanzitutto grazie a voi. Il mio libro Health Experience è disponibile online e per leggere di ulteriori consigli su nutrizione, benessere e sport potete seguirmi sui social media, Instagram, YouTube. I link si trovano tutti sul mio sito web che credo che sia qua sotto, indicato e trovate tutte le indicazioni. Grazie ancora dottoressa, a presto. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.